O muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare un numero. Sì, la immaginiamo così la frase iconica di un eventuale James Bond diretto da Christopher Nolan. Stiamo delirando? Forse no, perché questo scenario non è poi così improbabile. Infatti, secondo alcuni rumor emersi in rete nelle ultime ore, i prossimi due film di 007 potrebbero essere girati proprio da Nolan, dando vita a una nuova minisaga al servizio di Sua Maestà. Il favorito per indossare lo smoking della spia britannica più iconica di sempre, Aaron Taylor-Johnson, che con Nolan ha già lavorato in Tenet. Tutte indiscrezioni, ovviamente, da prendere con le pinze, ma che danno vita a ipotesi molto interessanti, anche perché Nolan è sempre stato un fan sfegatato del personaggio e non l'ha mai nascosto. Qualche mese fa, infatti, il regista inglese ha confessato. L'influenza che quei film hanno avuto sulla mia filmografia è evidente in modo imbarazzante. Amo quei film, e per me sarebbe un fantastico privilegio poterne girare uno. Ma adesso arriva la domanda più su cosa. Come sarebbe un James Bond girato da Nolan? Dai, proviamo a immaginarlo insieme. Difficile, per prima cosa. Sarebbe un film difficile, semplicemente perché è stato già girato almeno tre volte. A cosa ci riferiamo? Prima di tutto a Inception e Tenet, che sono quanto di più vicino a un James Bond immaginato dalla mente cervellotica di Nolan. Due film che giocano con il tempo e con lo spazio in cui Nolan ha riversato tutta la sua passione bondiana. E pensiamoci, gli elementi della saga di 007 ci sono quasi tutti. Due storie di spionaggio, con protagonisti in abiti eleganti, tanta passione per i gadget ipertecnologici e un team alle spalle dell'eroe che lo aiuta nella missione. Insomma, con Inception e Tenet, Nolan ha già dato libero sfogo al suo amore per il genere. E poi c'è il terzo film che ha fatto esattamente il percorso opposto, ovvero un film di 007 di chiara impronta nolaniana. Stiamo parlando ovviamente di Skyfall, in cui Sam Mendes ha sempre ammesso di essersi ispirato al Batman di Nolan. Nessun dubbio, tutto lampante. Un punto di riferimento davvero evidente, visto che Skyfall e la saga del Cavaliere Oscuro hanno una marea di punti di contatto. Ad esempio, l'eroe è esplorato sotto la maschera e sotto lo smoking, alla ricerca del suo lato umano, delle sue debolezze fisiche e psicologiche. Oppure un nemico mellifluo, subdolo e caotico, che cerca di mettersi sullo stesso piano del paladino e poi crea panico collettivo in città. E poi, soprattutto, quel grande senso di rinascita dalle proprie ceneri, che ha permesso anche al Bond di Daniel Craig di imparare a rimettersi in piedi. Insomma, un Bond di Nolan quindi dovrebbe sicuramente allontanarsi da questi tre precedenti molto pesanti, ma siamo certi che il buon Christopher sotto lo smoking abbia un bel lasso nella manica per riuscire a farlo. Un Bond diretto da Nolan sarebbe sicuramente un grande compromesso. Questo perché sappiamo che gli storici produttori di Bond, ovvero Barbara Broccoli e Michael Wilson, sono molto protettivi nei confronti del franchise. Ogni decisione fondamentale deve passare da loro e un regista come Nolan non sarebbe molto a suo agio senza la giusta libertà creativa. E non è un caso che immaginandosi al timone di Bond il regista abbia detto «Beh, a progetti del genere si lavora con un certo genere di costrizioni, e a me piacerebbe farlo con la giusta attitudine. Non vorrei mai dirigere un film senza essere interamente coinvolto a livello creativo. Non solo come regista, ma anche come sceneggiatore, casting, tutto deve essere il pacchetto completo». Dichiarazioni emblematiche, con cui Nolan sembra già quasi imporre le sue condizioni. E attenzione a quella frase sul casting, perché storicamente la decisione sull'attore che avrebbe vestito i panni di Bond è sempre stata ad appannaggio dei produttori, senza interventi esterni. Per cui la presenza di Nolan, che pretende di avere voce in capitolo, romperebbe anche una tradizione storica. È facile quindi immaginare che un Bond Nolaniano sarebbe frutto di un complesso lavoro quasi diplomatico, in cui il regista sicuramente, visto che è anche un fan, dovrebbe rispettare il canone del personaggio, ma lo farebbe alle sue condizioni, seguendo la propria sensibilità di grande autore. E in questo caso direi che un precedente rassicurante c'è e come, perché la saga di Batman è davvero il perfetto compromesso tra il rispetto di una proprietà intellettuale altrui, è il libero sfogo di un regista che mette in scena quello che gli interessa di più. Lo sappiamo, lo abbiamo capito, caro Nolan, a te piace giocare tanto col tempo, ma col tempo Bond ci ha già giocato abbastanza e soprattutto molto di recente. Basti pensare a No Time To Die, che fin dal titolo ha reso il tempo il nemico invisibile del Bond di Daniel Craig. Un tempo che sembra quasi aver sconfitto un Bond ormai troppo vecchio per il ruolo, ma che col finale controverso dell'ultimo film sembra dire esattamente il contrario. E infatti morendo, Bond è diventato mito, leggenda, racconto da tramandare. Bond è quindi diventato immortale, sconfiggendo il tempo. E allora Nolan dovrebbe dire almeno arrivederci al suo caro amico tempo e provare a fare cose nuove, sicuramente legando profondamente il personaggio al mondo di oggi, rendendolo molto contemporaneo, proprio come ha fatto con Batman negli anni in cui il terrorismo era un grande spauracchio collettivo. Immaginiamocelo, magari potrebbe essere un Bond disperso nel mondo digitale, che riflette sulla difficoltà di combattere un male sempre più fluido e astratto. E sicuramente sarebbe un Bond introspettivo, sicuramente non invincibile, ma le prese con i suoi limiti umani e professionali. Una cosa però è certa, dopo due film definitivi come No Time To Die e Oppenheimer, sia Bond che Nolan avrebbero bisogno di uno scossone, di cambiare aria e magari di rimettersi in discussione. E quindi una mano di poker allo stesso tavolo tra i due sarebbe davvero una bella idea. E voi che ne pensate di questo rumor di Nolan alla regia di Bond e soprattutto come ve lo immaginate uno 007 in salsa nolaniana? Fatecelo sapere nei commenti, noi come sempre ci risentiamo qui sugli schermi di Scream World. Grazie a tutti.